E ciao a tutti ragazzi, io sono LorexD E oggi faremo un video diverso Oggi faremo Una chat troll A una mia amica Allora, entriamo su Whatsapp Vediamo la musica Io ho scritto Ehi Lu Ludo Ok Lei ha visto? Sì E noi gli scriviamo Ti devo Ti Devo Dire Una Cosa Puntini puntini Poi gli scriveremo tutto Ok Ok, cosa? Cosa gli scrivi? Ti devo dire una cosa Aspè Mi devi Aspè, mi devi dire una cosa Sì Che? È uno scherzo naturalmente Che ne dite che rimetto la musica? Eh, ok Cosa sei? Una capra? Quello che ho detto io Vabbè Ehm Cosa gli possiamo dire? Aspettate Ok Da non tenermi sulle spine Ehm Io Ti Oh, naturalmente come ho detto prima È uno scherzo Ok Io ti Così? Così la facciamo Aspettare un po' Ok Allora io Sta rispondendo Scrivendo Cosa? Cosa? Ehm Che mano Chissà come radiusci Aspetta Eh Eh Sì Sì Da Un Po' Che la risponde? Come? Eh No Perché? Eh Adesso Proprio lo scherzo scherzo È uscito Sì strano Ma non me l'avresti mai detto Ehm Ma Ma queste cose Queste Cose Aspetta no 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 Perché lascia che vabbè No Non è uno scherzo Stai tranquillo No Anzi Non Non glielo Meno male che non glielo ho mandato Ok 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 Lo devo dire troppo a Irene Un'altra mia amica No Aspetta Ok No No perché Aspetta Beh Perché Ho delle immagini Ho anche lei Troppo scherzo Scrivendo Adesso Io devo dire Saluta YouTube Ah è un tuo segreto No Solo che Puntini 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 Saluta Yo YouTube Ok Io non è una persona Loro Voglio spiegazioni E Saluta Yo Tube E basta Senza cinema Cioè Senza Mi Vabbè Vabbè Lo sapevo che era uno scherzo E Ma anzi Non iscriviamo nulla Non lo iscriviamo Ok Allora E saluta YouTube E basta Lo sapevo che era uno scherzo Ok Adesso vediamo cosa Ridiciamo Ah ok Si sta Stai facendo pubblicità Da sola Ok Vabbè Noi diciamo Sì Tutti i miei iscritti Andate sul suo canale Non è vero Ok Ok 3 Ok 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 Blocco il video Ok Spero che Questo video vi sia piaciuto Io adesso vado E Faccio pure un altro video Perché ieri non l'ho fatto Di questo gioco Critical Ops Ok Adesso vado Perché altrimenti dura troppo il video Ciao Ciao